Benvenuti al tutorial numero 43 sul linguaggio C questo tutorial andiamo a vedere come effettuare una somma ricorsiva di un vettore di interi quando noi dobbiamo fare la somma degli elementi di un vettore scriviamo semplicemente un ciclo for e incrementiamo una variabile somma che è stata inizializzata a 0 con il valore dell'elemento in posizione I che stiamo visualizzando invece adesso andremo a vedere come effettuare un algoritmo ricorsivo che darà lo stesso risultato innanzitutto qui ho dichiarato un vettore di interi una variabile I e una variabile dim e una variabile somma e ho chiesto all'utente quanti elementi voleva inserire prendendo quel numero come dimensione e con un ciclo for che per I che va da 0 a dim ho chiesto in input i numeri e li ho inseriti all'interno del vettore andiamo subito a dichiarare il prototipo della funzione della somma ricorsiva la chiamiamo appunto somma ricorsiva passiamo come parametri il vettore e la dimensione e andiamo a vedere come implementarla è un algoritmo abbastanza semplice consiste nel dividere, nello spaccare il vettore a metà e di effettuare la chiamata ricorsiva sulla prima metà e sulla seconda metà e così via finché non arriveremo al caso base che sappiamo risolvere ovvero quando dim è uguale o uguale ad 1 e in questo caso ci ritorniamo vet di 0 c'è un altro caso del genere quando la dimensione è uguale a 0 e in questo caso si ritorna 0 quindi noi spaccheremo il vettore a metà grazie a un elemento che chiamiamo pv quindi fuori da questi due casi caso del genere e caso base ci sarà il caso medio e quindi pv sarà uguale a dim fratto 2 quindi l'elemento centrale e nel caso dim sia dispari mi pare che venga rotondato per difetto e poi dichiariamo altre due variabili somma 1 uguale a 0 e somma 2 uguale a 0 e somma 1 richiamerà la funzione ricorsivamente su vet quindi dal primo elemento fino a pv quindi questa chiamata ricorsiva agirà soltanto su metà vettore perché vet che è il primo elemento e pv che sarà la nuova dimensione la somma 2 invece la variabile somma 2 richiamerà la funzione ricorsivamente su vet di pv quindi l'elemento centrale fino a dim meno pv quindi fino all'ultimo elemento e semplicemente dovremo ritornarci ritorno somma 1 più somma 2 semplicemente qui lo scrivo caso degenere caso base qui potremmo anche togliere le graffe volendo risparmiare un po' di codice e quindi ricapitolando spacchiamo il metore e il vettore a metà e richiamiamo la funzione ricorsivamente sulla prima metà e sulla seconda metà quando richiamiamo qui questa funzione qui ci sarà vet e qui ci sarà pv e a questo punto rieffettua il controllo e rispacca di nuovo a metà il vettore e la richiama quindi alla fine ci ritroveremo sempre nel caso base e ci ritorneremo man mano l'elemento vet di 0 perché noi come detto nel tutorial precedente dobbiamo sempre cercare di ricondurci al caso base che intuitivamente sappiamo risolvere e il caso base è naturalmente quando la dimensione è uguale ad 1 perché ci dobbiamo ritornare soltanto un elemento oppure quando la dimensione è 0 e va bene quello è un caso a parte a questo punto non resta che richiamare la funzione io ho già dichiarato una variabile somma che sarà appunto uguale a somma ricorsiva di vet e dim e a questo punto stampiamo la somma degli elementi è percentuale di somma breve pausa e eccoci qui dobbiamo soltanto andare a stampare la somma che abbiamo già scritto andiamo a compilare non da errori eseguiamo e inseriamo 6 elementi 2, 3, 4, 5, 6 giusto per essere veloci e quindi da 21 10 20 e 21 quindi lui ha diviso a metà il vettore quindi da 1 a 3 e da 4 a 6 e ha richiamato ancora ricorsivamente la funzione sulla metà quindi da 1 a 3 ha diviso di nuovo la metà è andato a 2 e quindi da 1 a 2 da 2 a 3 e poi ancora sui singoli elementi quindi poi ha calcolato la dimensione la somma su questo su questo e su questo e la stessa cosa ha fatto qui quindi le somma 1 alla volta quindi questo era un altro algoritmo ricorsivo io vi rimando al tutorial successivo il numero 43 anzi il numero 44